Ecco Maximo Viola Ti sembra che sia tutto posto? Sì ma la devi mettere a fuoco, devi girare le rotelline Se no è un ammazzo di pixe di forme Si vedono i suoi occhietti da spillo? Sì Adesso Ma è bravo Ho spiumato Sì Questo magari è per lo lungo non so se ci viene Ma vaporoso sì perché è carino Aspetta non è proprio fuoco Senti se io lo tenessi ti faccio questo video Il problema è che se non sei in grado di tenerlo valorizzandolo Capisci? Certo 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 Non ci sono in grado di fare il video valorizzandolo Cucci cucci Stai almeno riprendendo il criceto Il criceto sì però non lo so Posso interrompere? Vai interrompi basta che li premi sul tastino